Il candidato sindaco Luigi Guarino questa sera chiuderà la sua campagna elettorale all'hotel premier di Varcaturo, mentre questa mattina si è recato su Lago Patria per i campionati italiani di canottaggio. Ecco l'intervista che ha rilasciato sul suo canale YouTube. Il suo impegno per questa zona? Ma questa è una bella retta che grazie anche a Tiziano e a Bagnali hanno portato un lustro sul nostro territorio. Sì, fai da te, sono privati, sono sacrifici, ma è anche un'incertezza. Dobbiamo dare, credo che come amministrazione comunale, dobbiamo fare chiarezza, verificare tutte le condizioni e mettere in condizione a questo che danno lustro al nostro territorio e non solo al nostro territorio, ma alla nostra regione, di campioncini che qui possono forgiare e portarci al lustro, alle medaglie d'oro che possono venire in seguito. Manca poco che si fa il ballottaggio. Ultimo appello che noi possiamo registrare per mandarle in onda. Ma credo che questo, basta solo verificare il mare, il lago e quella che è la nostra ricchezza. Se noi siamo convinti di dare anche persone capaci, che non sono del nostro territorio, alle capacità professionali e al lustro che hanno dato nello sport e farla gestita loro, non possiamo che altro che migliorare l'indotto e occupazione e benessere sul nostro territorio. Per i giovani che fanno sport, ci riempiamo la bocca, ma questi sono dati certi e si impegnano sul sociale e anche sul dato di fatto che questi ragazzi, come voi vedete, dimostrano le loro capacità.